Sabato, sabato 12 ottobre, ben ritrovati con Infostudio. Le schermaglie e anche e soprattutto le rotture, le lacerazioni, le spaccature nelle due grandi coalizioni in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria in apertura. Ormai è chiaro che sarebbe fine anno, adesso la data possibile, la prima utile, ma comunque è quasi certo che il voto nella nostra regione slitti all'inizio del 2020, a gennaio del 2020. Al di là della data c'è da notare come sia nel centro-sinistra che nel centro-destra il clima sia divenuto assolutamente poco idilliaco. Mentre a centro-sinistra è il nome, la questione di rimente e la ricandidatura di Oliverio, che il PD assolutamente non vuole. Ieri nuova riunione delle numerose, una dozzina, sono in tutto anime del centro-sinistra ancora fedeli e vicine al governatore uscente. E' ancora nuova richiesta di incontro al PD ad articolo 1, che difficilmente verrà accolta. Nel centro-destra da ieri è ufficiale invece la divisione tra Forza Italia e Fratelli d'Italia da una parte, sebbene Fratelli d'Italia non si sia espressa in maniera ufficiale ed unitaria a livello centrale, e la Lega dall'altra. Lega che in questi mesi in cui Mario Occhiuto ha tenuto una lunga campagna elettorale da candidato presidente in pectore mai si era espressa in maniera palese a favore del sindaco di Cosenza. Quando il coordinamento nazionale di Forza Italia ha ufficializzato la candidatura di Occhiuto, altrettanto ufficialmente la Lega ha fatto sapere che non lo appoggerà. La cosa strana è che tanto a sinistra quanto a destra i motivi che adducono il PD per non ricandidare Oliverio e la Lega per non appoggiare la candidatura di Occhiuto paiono simili. Entrambi, Oliverio e Occhiuto, sono indagati, hanno diverse inchieste a loro carico, tre a testa mi sembra. Per quanto riguarda invece il motivo del non appoggio della Lega al sindaco di Cosenza, c'è da dire che esso non risiede, come nel centro-sinistra invece si riferisce apertamente, alla necessità di andare oltre e di ritrovare l'unità. Perché l'unità, centro-destra e le vittorie nelle elezioni di febbraio e marzo scorsi, nelle regionali di ben tre regioni lo dimostrano, non c'è la necessità di superare questa fase. Tuttavia, anche sul nome di Occhiuto parrebbe di capire che la Lega ravvede una candidatura tra virgolette vecchia. A due mesi, settimana più, settimana meno, dalle elezioni regionali, in Calabria, su entrambi i versanti, prevalgono veti e spaccature. Se a sinistra il fattore divisivo è Oliverio, a destra è la candidatura, annunciata ieri di Forza Italia, di Mario Chiuto a spaccare una coalizione che a livello amministrativo finora è filata come un treno, conquistando in un mese prima l'Abruzzo, poi la Sardegna e infine la Basilicata, e che fino a un paio di mesi fa era data come strafavorita nella corsa al piano più alto della cittadella regionale. Occhiuto era in campagna elettorale da sei mesi, la sua candidatura era stata lanciata all'inizio di aprile alla mezza terme, ma in tutti questi mesi mai la Lega ha manifestato apertamente consonanza e fervore nei confronti della scelta di Forza Italia. E del resto, fino a due giorni fa, il nome di un altro sindaco, quello di Catanzaro, Sergio Abramo, aveva continuato a essere speso come possibile e alternativo. Il via libera del coordinamento nazionale di Forza Italia, cioè di Tajani, Bernini, Gelmini, Giacomoni, i quattro fedelissimi di Berlusconi, ha costretto la Lega non solo a uscire allo scoperto, ma anche a motivare la decisione di non appoggiare la candidatura di Occhiuto. E la motivazione è pesante. Ci sono tante donne e uomini calabresi, senza problemi con la giustizia, che possono rappresentare meglio il futuro di questa terra. Meglio vuol dire meglio di Occhiuto e senza problemi con la giustizia è il voluto riferimento alle tre inchieste a carico del sindaco di Cosenza. La singolare coincidenza è che, mentre il PD nega a Oliverio la ricandidatura accennando alla necessità di rinnovamento e all'urgenza di guardare avanti ed oltre, pur senza fare apertamente riferimento alle inchieste che riguardano il presidente uscente, la Lega fa pressa poco la stessa cosa e motiva il no sollevando una questione di opportunità e mostrando i muscoli, come ha fatto il commissario Cristian Invernizzi, il quale ha ricordato che il partito di Salvini alle ultime elezioni, le europee, è stato il più votato del centrodestra in Calabria e dunque non accetta imposizioni. Ieri sera c'è stata una tempesta di comunicati, repliche e controrepliche, e a questo punto, se non interverranno fatti nuovi, la situazione è la seguente. Occhiuto sarà il candidato presidente di una coalizione di centrodestra priva della Lega, che a sua volta dovrebbe correre da sola, non per tentare un miracolo in una regione nella quale non faceva mistero di non avere grandi imprese, ma più che altro per conquistare la più ampia rappresentanza possibile nel Consiglio regionale. Da valutare se la lacerazione avvenuta nella nostra regione possa avere ripercussioni anche sugli accordi che finora hanno tenuto insieme Berlusconi, Salvini e Meloni a livello locale. Fra due settimane una prima indicazione verrà dall'esito dal voto in Umbria. L'ospedale di Vibo Valencia sempre nell'occhio del ciclone. Oggi l'autopsia da parte della naturopatologa Catiuscia ha bisogno sul corpicino del bambino che era morto già nel grembo della madre, scusate, alla 39esima settimana di gravidanza. Una donna di 32 anni c'è saliti. Per lunedì è atteso l'arrivo degli ispettori del Ministero della Salute. C'è un'inchiesta interna da parte dell'azienda sanitaria e arrivano gli ispettori ministeriali inviati dal Ministro Speranza. E intanto oggi il Quotidiano del Sud riferisce di un altro caso di presunta malasanità. Lo sottolineiamo ancora presunta. Riguarda un uomo di 79 anni, un vigile urbano in pensione, che il 6 settembre scorso si è sentito male ed è morto due giorni dopo all'ospedale di Catanzaro, dove era stato trasferito d'urgenza. Ma il 6 settembre l'uomo si era recato nell'ospedale di Vibo Valencia. Aveva dei forti dolori addominali e sia il medico di famiglia che lo aveva visitato che il medico del 118, chiamato perché i dolori non scomparivano, avevano diagnosticato un aneurisma addominale. Quando però l'uomo è poi stato portato all'ospedale di Vibo Valencia, il caso è stato giudicato un codice giallo, sarebbe un codice rosso, un aneurisma addominale. Sarebbe stato cioè declassato, questo lo ha raccontato la moglie dell'uomo che ha perso la vita, un insegnante in pensione. E quindi i familiari hanno presentato denuncia e adesso probabilmente ci sarà anche su questo caso una inchiesta della magistratura. Nella notte la guardia di Finanza, una pattuglia, ha sorpreso a Briatico un uomo che stava rubando dei cavi in rame e questi sono i cavi, in parte li vedete sulla strada, un'altra parte era già stata caricata nel cofano dell'auto e il furto di rame, vedete il coperchio che era stato divelto, aveva provocato anche l'interruzione del servizio di illuminazione pubblica. Quando l'uomo ha visto la pattuglia ha cercato di allontanarsi precipitosamente, risalito in macchina e ha tentato appunto di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato. Aveva già tranciato e asportato un'ottantina di metri di cavi per un peso complessivo di quasi 50 kg e ripeto, il fatto che avesse tagliato i cavi aveva provocato l'interruzione della pubblica illuminazione. Durante un servizio di monitoraggio dall'alto, un elicottero della polizia ha segnalato la presenza di una piantagione di marijuana in località Polia Gromilara di Africa, nel territorio del Parco Nazionale della Spermonte. La piantagione è stata sequestrata, si trattava di circa 2.500 piante di altezza fra il mezzo metro e il metro e 80 in ottime condizioni vegetative, quindi erano pronte per la raccolta. La coltivazione era mimetizzata tra la vegetazione delle zone spromontane ed era composta da diverse specie di cannabinoidi disposte lungo filari allineati in un'area di 5.000 m2, un'area che era stata anche disboscata per permettere la piantumazione e recintata e che era servita da un sistema di irrigazione rudimentale, c'era una sorgente d'acqua naturale nelle vicinanze. Rivenuti anche una tenda da campeggio, attrezzi da lavoro e alcuni indumenti. La marijuana che si sarebbe potuta ricavare dalle piante avrebbe fruttato un guadagno economico superiore ai 500 mila Euro. Il grande successo gliel'hanno dato il cinema, non il grande successo, la grande notorietà, meglio dire così, e la televisione anche recentemente, però Alessio Boni è soprattutto un attore di teatro e ieri sera a Crotone, al Teatro Apollo, ha insieme a Marcello Preier messo in scena i versi di alcune poesie di Alda Merini. Prima dello spettacolo, l'incontro da parte di Giuseppe Laratta. Alda Merini è la sua poetica, la sua voce, la sua risata. Il teatro Apollo di Crotone è stato immerso ieri sera dal tesoro che ha lasciato la poetessa e scrittrice milanese a diffondere la sua genialità, ma anche i suoi momenti più tristi. Sono stati gli attori Alessio Boni e Marcello Preier che hanno portato in scena Canto degli Esclusi, spettacolo all'interno della seconda edizione della stagione concertistica 2019 L'Era della Magna Grecia, organizzata dalla società Beethoven-Akam. Luci Soffuse, la voce della Merini, nata a Primavera, che canta con Lucio Dalla, i racconti drammatici del periodo in manicomio e l'elettroshock, ma anche l'amore. Un mix esploso dalle voci degli attori che insieme, in un concertato a due, hanno diffuso l'arte della Merini, gioie e dolori di una donna simbolo del Novecento italiano che hanno incantato gli spettatori in sala. Credo che ci abbia dato una grande lezione di vita, al di là della poetica, perché dopo dodici anni di manicomio, se un'istituzione considera pazza Alda Merini, secondo me c'è qualcosa che non va in un'istituzione, 46 elettroshock è che è una cosa folle, quattro figlie non le ha mai viste, le hanno portate via subito, non ha mai potuto farla madre. Tutto sommato questo dolore è diventato una forma incandescente di vestito e l'ha tramutata in poetica, in amore nei confronti dell'altro, si è avvicinata con la poesia al pubblico, non ha rancore, non ha rammarichi, si dona totalmente all'altro, esce da questo manicomio e ci regala delle pillole che ancora adesso rimaniamo sconvolti quando le leggiamo. E abbiamo voluto completamente eclissarci, noi non ci siamo, se potessimo non andremmo in scena, stiamo 25 passi indietro, lasciamo parlare la poetica di Alda Merini, ecco perché è concertato a due, perché gezziamo insieme le poetiche, non è che ne legge uno e l'altro, si gezza insieme, ci sentiamo perché sentiamo lei, sentiamo la sua parola, sentiamo il suo verso, sentiamo il suo afflato e lo lasciamo completamente ondeggiare tra il pubblico, questo è l'intento che abbiamo. Lei ha citato la musica jazz prima, se dovesse accostare un genere musicale alla poetica di Alda Merini, quale sarebbe? Coltrane, John Coltrane, sì, però vai dentro, lui giocava con le note, appena sentiva un piano si accostava il piano, appena sentiva la tromba andava la cantata alla tromba, si appena un sax, andava presso il sax ed era fantastico. Noi siamo a servizio della sua poesia, della sua testimonianza di vita e abbiamo scelto una via di concertato a due voci perché veniamo da una formazione teatrale uguale, cioè del nostro maestro Grazio Costa Giovangilli che ci ha formato attraverso la disciplina del coro e quello che noi facciamo è uno degli esercizi che facevamo per avvicinarci al gioco corale. Questo gioco corale ha due voci e un tentativo di diventarne una a servizio appunto del poeta. E anche per oggi siamo arrivati all'appuntamento con Io Scelgo Calabria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io Scelgo Calabria. Calabria ritorna sulla costa tirrenica cosentina e si ferma a Campora San Giovanni. È una frazione di amantea posta proprio al confine tra la provincia di Catanzaro e la provincia di Cosenza. Perché a Campora San Giovanni? Perché incontriamo Giancarlo Suriano. Giancarlo Suriano possiamo definirlo come il maggiore esperto di peperoncino ovviamente piccante della nostra regione ma che ha avuto la capacità di farsi conoscere molto anche fuori regione e all'estero. Giancarlo, innanzitutto una domanda. Tu hai girato il mondo con il peperoncino e ci hai confermato che la Calabria è considerata la regione piccante per antonomasia. Ma accanto a questa nomea della Calabria è cresciuta al punto giusto la filiera del peperoncino calabrese? Devo dire che no. Abbiamo tanto da fare però bisogna organizzarsi. Quello che ci manca è la cultura dello stare insieme, dell'associazionismo. Se questo può avvenire saremo sulla strada giusta. Molto probabilmente lo spazio, la nicchia di mercato del peperoncino calabrese non è tanto quella del super piccante ma di un peperoncino piccante in modo giusto che introduca però anche il concetto di sapore perché spesso noi non associamo al peperoncino anche il concetto di sapore. Sì, è vero. Perché il peperoncino ha il sapore, il profumo, il grado di piccantezza, la persistenza. Quindi io quando parlo di peperoncino piccante non classifico un peperoncino a differenza di un altro quando è piccante o meno ma il modo di essere diversamente piccante perché ogni peperoncino ha una caratteristica della persistenza, l'avvolgimento del piccante e tanti altri aspetti che consideriamo e di solito li considerano anche gli esperti. Questa edizione finisce così. Io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo tgcal24.it per restare sempre aggiornati con le notizie e vi ringrazio per la cortese attenzione.